Che ci dicono che non sono iscritto a nessuna associazione strana e i miei parenti non intrattengono rapporti con questa... Bene, a chi siete venire, consigliere Bertola? Prego, consigliere. Pensano che la associazione strana fosse la massoneria, ma non avevano neanche il coraggio di dirlo. Comunque, alla fine... Vabbè, comunque... Bravo, vabbè, posso... Grazie. No, perché siamo arrivati al momento finale e devo esprimere comunque, scusate, la mia delusione per come finisce questa vicenda. Nel senso che la Commissione ha lavorato bene e io devo dire, condivido la sensazione, credo, di tutti quelli che ci hanno lavorato, del fatto che magari dopo qualche, tra l'altro, polemica iniziale da entrambi i lati, che poi si è dimostrata completamente fuori luogo, abbiamo lavorato insieme, senza preclusioni, con l'unico fine di accertare la verità e credo l'abbiamo fatto per quello che può essere la verità accertata in questo modo, velocemente. Però, alla fine, questa roba, scusatemi, si conclude sostanzialmente da parte del Consiglio Comunale in quasi un nulla di fatto, perché va bene tutta questa lista lunghissima di dispositivi per il futuro, di fare, però... Che poi, peraltro, voglio dire, ribadito, sono cose che dovrebbero essere essenziali, nel senso che, peraltro, già anche in vigore. Ma, alla fine, per quanto riguarda la vicenda, chi pagherà? Cioè, chi pagherà per il danno che è stato fatto a Xea, ai cittadini, è stato fatto all'amministrazione comunale, è all'immagine stessa dell'amministrazione comunale, perché sembra che noi qui non individuiamo nessuna responsabilità, e va bene per le responsabilità di cui preoccuparsi la magistratura, ma neanche le responsabilità politiche. Cioè, non c'è un'ammissione di responsabilità politica da parte di nessuno, se non qualche vaga frase su una cosa generale, eccetera. Sostanzialmente si dice che va bene così, vedremo per la prossima volta di fare meglio. Però il senso di questa mozione, onestamente, letto come è mandato così, è questo, è quello che... E quindi, francamente, non capiamo. Cioè, la sensazione è veramente di grossa delusione, perché si è perso un'occasione comunque per dimostrare che si poteva andare anche con coraggio contro chi è comunque avuto posizione di potere, e chiedergli conto di quello che ha fatto, senza per questo criminalizzare quella sentenza, ma semplicemente chiedere conto di errori che sono stati commessi. E invece, onestamente, la sensazione è che purtroppo anche questa volta si finisca tra luce e vino. Per cui, per questo motivo, noi non voteremo la mozione. Grazie.